Per noi che viviamo qua sono un'icona ormai, per chi c'era magari un bel ricordo, per chi non c'era, per chi non c'era, non ero ancora nato, però nei racconti ci immaginiamo una Roma che non c'è più e che anche attraverso questa corsa è possibile raccontare perché l'altra grande anomalia oltre al fatto di partire nel pomeriggio, di correre al tramonto e di arrivare di notte, cosa mai è avvenuta nella storia delle maratone olimpiche, l'altra cosa che appunto ci lega a noi romani, ci dovrebbe legare a questa storia è che questa maratona si svolge, a parte il tratto iniziale che arriva addirittura sul raccordo anulare che già esisteva, era appena iniziato il cantiere del raccordo anulare nel 1960, poi si svolge sulla via Appia Antica e con l'arrivo all'arco di San Costantino, l'arco di Costantino scusate, e quindi anche il percorso è un percorso che ha un senso storico per noi di Roma. Ecco, in questo libro poi dopo il traduttore magari ne parlerà più nel dettaglio, viene raccontata quella corsa dal punto di vista del protagonista, questo è molto importante, questo libro è molto bello per quello. E allora è bello anche ricordare alcune cose che forse dal libro non emergono perché magari vengono date per scontate dall'autore che ha raccontato la storia di un atleta, l'impresa di un atleta conosciutissimo e anche la storia di quella corsa è una storia ormai entrata nel mito, la corsa del maratone da scalzo, la città di Roma, l'arrivo di notte, le torce lungo la via Appia. Però è bello ricordare alcuni piccoli particolari, alcuni aneddoti che danno il senso del tempo e anche di questa storia. La sintesi che uno può fare di quella gara è che è una gara che è vissuta su un fantasma e su due misteri. Perché? Allora, innanzitutto i due misteri che poi in realtà sono misteri risolti, cioè il primo perché e quando Bichila decide di correre scalzo. L'altro mistero che poi cercheremo di risolvere in questa nostra chiacchierata è il momento esatto nel quale Bichila decide di vincere quella maratona ed è importante questa cosa non tanto sotto l'aspetto sportivo ma perché ridimensiona tutta un'epica storico-politica legata a quella gara e ora vi dirò perché. Il fantasma è il fantasma che accompagna per tutta la maratona Bichila. Bichila in questo libro, in questo romanzo, racconta chi è questo fantasma e io partirei da qui, allora, da questo fantasma. Sostanzialmente cosa succede? Che l'allenatore di Bichila, che peraltro anche questa è una cosa molto affassionante, secondo me molto intrigante, è un allenatore svedese, quindi siamo proprio dall'equatore al nord Europa, alla Svezia, quindi siamo proprio agli antipodi, come si dice, però tra questi due uomini si era creata un'alchimia, un rapporto, un affetto, tra l'altro nel libro, vedrete chi lo leggerà, chi l'ha letto, lui lo chiama papà, non perché sia suo padre naturalmente, perché ha quasi avuto un ruolo di questo tipo. Allora, l'allenatore di Bichila gli dice, prima della gara, guarda, tra l'altro apro e chiudo una parentesi, quando, prima delle Olimpiadi alla stampa, i partecipanti, l'allenatore svedese di Bichila parlando con i giornalisti dice, guardate che Bichila, che nessuno conosceva l'Occidente, lui correva soltanto in Etiopia, correva scalzo sulle montagne dell'Etiopia, era un pastore, questo nel libro viene raccontato molto bene, lui accredita il suo atleta, cioè Bichila, della possibilità di vincere e i giornalisti, quasi ridendo anche i giornalisti italiani, i grandi giornalisti del sport, dicono, ma chi è questo Bichila, ma chi è questo allenatore? Sì, va bene, c'è sarà uno che vuole. E quindi, nel pre-gara, l'allenatore spiega a Bichila quali sono gli altri favoriti, e tra questi favoriti erano in quegli anni, perché ancora doveva iniziare l'ottata dei runner africani, erano per lo più russi, occidentali, qualche sudamericano, e c'era anche un marocchino, aspettate perché si sta attivando, ecco. C'era anche un corridore del Marocco, che si chiamava, scusate, ma, ecco, Rati, che era uno dei favoriti. Allora, l'allenatore di Bichila spiega a Bichila, dice, guarda, tu fai la gara, tutta la gara rimanendo, diciamo, nascosto, rimanendo nelle trovie, e usa come tuo punto di riferimento Rati, che ha il numero 71. Tu segui sempre lui, stai sul suo ritmo perché lui è il più forte, secondo me, e tu se vuoi vincere devi a un certo punto sferrare l'attacco e staccare. Per cui, di Bichila si segna con una penna sul polso i numeri dei favoriti e di questo, in particolare, di Rati. Poi lui corre, man mano che la gara va avanti, si staccano i più lenti, lui rimane con il trappello dei primi, piano piano, insomma, si spila tutto il trappello dei maratoneti e lui si trova da solo, almeno dopo la metà della maratona, con questo altro atleta, che però non è il numero 71, è il numero 185. E lui dice, ma chi è questo fantasma per lui? Perché lui dice, i miei avversari non ci stanno più in gara, perché i numeri che si era segnato non c'erano, torna lui. C'era questo 185 che io non so a piedi. E questo fantasma se lo porta avanti fino al tratto finale della maratona, fin quando, a Porta San Sebastiano, sente un, non direi un tifoso, perché non credo che ci fossero dei tifosi del marocco, probabilmente uno dell'equipe della nazionale del marocco, dire a Radi, vai Radi, forza Radi. Allora lui capisce che era, che era lui, che quel fantasma era il suo terzo. Cosa era successo? Era successo, non si sa se casualmente, o perché, per una controstrategia della squadra del marocco, questo Radi, invece di indossare il numero che era previsto dal sistema di partenza, aveva utilizzato il pettorale, cioè il numero che era usato nella gara di 10.000 di qualche giorno prima, e quindi era rimasto agli occhi di Pichilla nascosto, era un fantasma. Allora lui lì capisce che è il momento di attaccare, perché ormai mancano ruoti di Roma e di Lattino, capisce che quello è il suo avversario, e quindi è il momento di provare a staccarlo. E, per un'altra coincidenza, questo avviene a Porta, lo stavo studiando, dicevo prima con lui, perché questa cosa nel libro non lui non la racconta, ma nelle cronache, nelle varie interviste che lui ha dato negli anni lo racconta, perché a Porta San Sebastiano, chi è di Roma lo sa, conosce quella strada lo sa, finita l'abbia, eccetera, passata Porta San Sebastiano verso, diciamo, le terme di Caracalla, c'è un tratto di strada che è perennemente all'ombra, inverno-estate, perché ci sono gli alberi che fanno una torta di galleria naturale. Questo che significa che in quella giornata di metà settembre calda, lì il sole non aveva mai battuto. Pichilla che corre a piedi scalzi, dopo spieghiamo perché, sente anche il fresco sotto i piedi, perché cambia la temperatura del terreno dove sta correndo, dell'asfalto, e quindi anche psicologicamente ha un input di energia che lo porta, da un lato perché capisce che è il momento in cui deve staccare il suo avversario e poi perché a questa cosa parte, va in progressione e vince la maratona. Questa cosa, questo dettaglio, ridimensiona il mito del fatto che anche in questo libro viene molto narrato ed è vero, cioè c'era uno spirito di rivalza dell'Etiopia rispetto all'Italia fascista che aveva con la guerra fatto quello che aveva fatto in Etiopia e quindi nella narrazione, diciamo, epica di quella gara si dice che in realtà l'indicazione dell'imperatore Etiope di chi la decide, anzi il programma di scattare, di fare diciamo la progressione decisiva passando sotto l'obelisco di Axum che stava più o meno tra Caracalla e Circo Massimo, proprio per dare il segno di questa rivalza storica dell'Etiopia rispetto all'Italia fascista. Non è così perché tecnicamente lo dicevo, quella è una gara, quindi sono altre le dinamiche, è vero che quella gara però alla fine era rispetto a scatto per l'Etiopia, poi qualche anno dopo quello che ha seguito l'Etiopia, non c'è più il fatto. E quindi ecco spiegato uno dei due misteri, dove è scattato il tecnic e il culto e chi era il fantasma. L'altro mistero, l'altro giallo che abbiamo l'altro giallo, mentre è dato per acquisito, mentre si la corre a chi riscaldi, anche il perché si sapeva, lui aveva sempre corso a chi riscaldi in Etiopia perché il terreno, la montagna Etiope, la terra, i sassi, lui diceva, raccontava che riusciva a sentire quello che gli sussurrava la terra, la strada e quindi riusciva a correre al meglio. Allora lui sempre nella fase preparatoria della maratona, il sistema allenatore fa una, diciamo, una perlustrazione del percorso e capisce soprattutto nel tratto finale del percorso, cioè l'Appia Antica, e anche qui chi è di Roma, chi la conosce lo sa, che è un terreno particolare fatto di grandi pietre, terra, eccetera, ha l'intuizione di dire, beh, ma qua è un fondo molto simile a quello di questo territorio, e poi è il caso di correre senza scarte, anche perché, questo è l'altro dettaglio emerso poi nella storia, nelle vintagini, l'Adidas, che era la fornitrice della Nazionale Estuta, aveva mandato le nuove scarte per lui, per Bichida, che già era un problema correre con le scarpe, perché era abituato a correre scarte, con queste scarpe nuove aveva capito che non andava bene, quindi decide insieme all'allenatore di correre scarte. Questo che cosa smentisce, o comunque ridimensiona altre narrazioni, ad esempio c'è un giornalista italiano che ha raccontato nelle cronache della corsa che Bichida a un certo punto, proprio lungo il raccordo anulare, anzi c'è la Cristoforo Colombo, impassita dalle scarpe, se le leva e le butta. Non è così, tra l'altro questa cosa era facilmente smentibile, perché se poi andate a vedere su YouTube le immagini della partenza della maratona, sotto il Campidoglio si vede che lui è già pieno di loro. Così come l'altra questione, questo tra l'altro è un mistero, perché nel libro l'autore fa dire a Bichida, che lui si leva le scarpe un attimo prima della partenza e le nasconde dietro un angolo della piazza del Campidoglio. In realtà, se come risulta, la decisione è stata presa qualche giorno prima, lui le scarpe non ce le arriva, ma comunque sono tentati. E quindi ecco raccontato, spiegato, svelato quest'altro mistero. Concludo con altre due cose, una cosa che mi piace citare perché per chi corre è un'altra suggestione che arriva da questa gara, cioè quello che vi dicevo prima della partenza al tramotto e la costa di vera. Allora, per chi corre a tutti i livelli dal punto degli attrezzamenti che vengono da pace. In qualsiasi piangolo della città corre allenare nei parchi, tendenzialmente si corre la mattina, cioè la maratona si corre, le grandi maratone internazionali si corre sempre la mattina. E quindi anche gli allenamenti, le preparazioni che durano mesi, si vengono fatte con questi schemi, queste schede che si fanno la mattina eccetera. Poi alla fine questa cultura nel mondo del running ha determinato una cosa che tendenzialmente si corre il pomeriggio o la sera quando si corre vincolati da pressioni di preparazione, schede, allenamenti. Si corre proprio la gioia, il senso di libertà della corsa. Quindi si corre la sera in riva al mare, si sta in vacanza, nelle città d'estate, di sera la città è vuota. E quindi c'è questa suggestione, questa cosa strana di questa gara vera olimpionica, quindi una gara tecnica che parte al tramonto, alle 17 o meno al tramonto, alle 17.45 sotto il Campidoglio. Tra l'altro vi invito a vedere quelle immagini molto belle, vedrete questi colori. Poi dopo la gara parte da lì, passa sotto il Colosseo, c'è il Colosseo illuminato dal sole al tramonto che ricorda quasi le Dolomiti, c'è quel giallo del colore delle Dolomiti al tramonto e lì è un'altra cosa di suggestione molto particolare che c'è stata a Roma e non c'è stata mai più. E poi la stessa cosa all'arrivo di notte con le torce lungo Lappia e con l'arrivo all'arco di Costantino. Questa è una cosa. L'altra cosa è molto di... è un dettaglio che ci racconta com'era Roma nel 1960, il villaggio Olimpio che tutti quanti conosciamo, che adesso è un quartiere, ma lo facciamo originariamente, erano le residenze delle squadre olimpiche. E c'è una cosa bellissima, che ho scoperto, apposentendo questa storia della Maradona di Puglia. Succede che, finite le Olimpiadi, quegli appartamenti vengono poi... prima li presentava il comune, diventano abitazioni del comune, poi vengono dati da tutto, poi vengono vendute anche nel corso degli anni. E un inquilino di uno di questi appartamenti fa fare la ristrutturazione della casa e trova dei fogli di carta scritti in aramaico. Allora lui si incuriosisce, fa tradurre questa cosa e scopre che erano la dieta di Puglia, quello che lui mangiava in preparazione della Maradona. E, insomma, immaginiamoci appunto Puglia che arriva a Roma quindici giorni prima della Maratona, si va a allenare, lui si allenava al campo di polo dell'acqua cetosa, dove adesso c'è il campo di polo dell'acqua cetosa, faceva queste perlustrazioni insieme al suo allenatore con una cinquecento, c'è anche una fotografia, perché sulla raccordo anulare e sulla Cristoforo Colombo, nei giorni precedenti, non potevi portare perché c'era traffico. E in parte invece lungo l'appia antica, per il motivo che dicevo prima, prova quel terreno e poi viveva nel villaggio lì, che era appunto il villaggio dei Jodi, e è riemerso da quel passato, questo particolare, che poi ci racconta anche il segreto, quello con il quale ho iniziato a dire, cioè il perché da lì poi parte la lunga ondata dei runner africani, con il loro stile di vita, la loro alimentazione, la dieta e le motivazioni, che poi si è cercato negli anni, quindi si può cercare la spiegazione, perché i gnoti e gli idioti portano le noce. Qualcuno ha detto, ah, perché vivono, sono nati e cresciuti negli alti piani in quota, perché la struttura fisica è quella più vicina nella catena che ci porta dall'uomo preistorico ad oggi, e siccome l'uomo preistorico sostanzialmente nasceva corridore, perché nella preistoria l'uomo per sopravvivere cacciava, e per cacciare inseguiva le prede, e aveva un vantaggio rispetto alle prede, perché le prede che erano animali, facciamo il confronto con un cane, non sudano. Il cane, infatti, se non chi ha un cane, sa che se corre, si deve fermare un tanto con la lingua, quello è il suo modo di recuperare. L'uomo invece che suda e non ha il teto, aveva la possibilità di correre all'infinito, sostanzialmente, e quindi finiva le sue prede e le raggiungeva, perché le dovevano fermare, l'uomo non si fermava e cacciava. Quindi alcune ricerche dicevano, quindi quella, essendo in Africa questo filo rosso più vicino, loro hanno, ma non è quello, perché poi alcuni atleti occidentali hanno dimostrato che si può anche fare quei tempi. È una questione di alimentazione e di motivazione. Il riscatto, che dicevamo prima, che ha rappresentato Pichila, il primo riscatto dell'Africa, che continua ad essere adesso il riscatto di un paese, di un continente che nella geopolitica è praticamente la base di una piramide dove il benessere è sopra e l'emarginazione e la povertà è in quel continente. Quella piramide si capovolge nella maratona e nel ranking, perché i primi atleti, che sono sempre, comunque, io più che neanche, li vedete passare, sono uno spettacolo assoluto. Sono dei fruscivi, delle sensazioni che passano leggerissime, quasi sentendo un fruscio, appunto, figli di un dio maggiore. Poi è il primo occidentale che arriva, che comunque è uno fortissimo, perché a quei livelli sembra un elefante, cioè, sembra che la forza di gravità lo tiene attaccato all'asfalto e che fatica a correre un po' meno veloce degli africani. E quindi da lì è partita questo riscatto, che non è solo sportivo, e che è arrivato fino ai giorni d'oggi con, appunto, un atleta keniano che per la prima volta è scelto sotto le due ore nella maratona ed è lo stesso riscatto che Gev Selassie, che è stato primatista mondiale fino a qualche anno fa dalla maratona, ha detto, noi africani, vedendo vincere, chi l'ha visto, sapendo la storia di Bitila che ha vinto, abbiamo capito se l'ha fatto lui lo possiamo fare. E da allora hanno cominciato a farlo. Adesso do la parola a Marco, che ha tradotto questo bellissimo libro. Buonasera. Io la storia di Bitila l'ho scoperta quando mi hanno proposto di tradurre questo libro. A differenza di Marco, non sono un po' lista, non sono esperto, però mi piace ripercorrere le parole dell'autore, perché quando traduci un libro ci passi tanto tempo, alla fine li vuoi bene, sono un po' anche le tue, nel senso che quelle italiane non so con noi. E quindi inizierei con una recitazione della prima pagina del libro, dell'introduzione. Koer fa una dichiarazione di intenti e dice che questa non è una maratona, è una guerra. Dice che Bitila è venuto a Roma per riaprire una battaglia vinta vent'anni prima. A che cosa si sta riferendo? Si sta riferendo alla guerra d'Etiopia del 36, l'invasione italiana in Etiopia e tutto quello che ne è seguito. E delinea immediatamente i due assi del libro. I due assi principali sono la maratona e sono la storia. E poi c'è un terzo asse, che è quello del mito, che ne scaturisce nel momento in cui la maratona e la storia si incontrano. All'intersezione della maratona reale, della storia reale e del mito, che è tutto quello che nasce intorno, emerge la figura di Bitila, bellissima, col pettorale numero 11, i piedi nudi, che corre sull'asfalto di Roma. E che entra in un pantheon di eroi neri, che vengono anche citati nel libro, che proprio in quell'anno stavano facendo la storia alla maratona alle Olimpiadi di Roma. C'era Cassius Clay, che aveva vinto l'oro nei medio massimi, c'era Vilma Rudolph, la velocista, c'era Ralph Boston, che aveva vinto l'oro nel salto in lungo. E allora che sta succedendo in questo momento? Sta nascendo un eroe. E ancora una volta la frase con cui ne parla Coer è questa. Abebe, al momento della partenza, non è ancora nato. Ancora per poco il mio corpo non ha nulla a che vedere con quello che ricorderanno tutti, quando il mio corpo non sarà più mio. Il processo che viene raccontato nel libro è questo. Il passaggio da un uomo che forse... All'inizio della storia c'è un uomo che viene dall'Africa, che ha una moglie che si chiama Yevudar, che ha una famiglia, ha la madre che non voleva farlo correre. è un ufficiale della guardia del Negus, ha un lavoro. La madre gli dice perché dovresti correre? Hai un lavoro? Perché te ne vai a correre? All'uscita da questo processo, fuori dalla maratona, viene fuori il mito di Abebe, che appartiene a tutti e non più al solo Abebe. Quindi dicevamo due assi, la maratona e la storia. L'asse della maratona nel libro è molto realista, viene fuori in tutti gli suoi aspetti tecnici, Queer ci tiene, parla di Onni Niskanen, questo allenatore svedese, che aveva portato tutta una scuola di allenamento in Etiopia, l'alternanza, molto tecnico il libro, la fase aerobica, la fase anaerobica, per aumentare la resistenza lattacida, io non capisco bene cosa significa, ma Queer, facendomi disperare, lo traduttore, ci tiene molto. Tutti gli aspetti tecnici della maratona emergono, ci sono la tecnica di corsa, di Bichila, che poggiava il piede in avanti, si parla del muro, di questo momento in cui si esauriscono le risorse di grigogeno, il maratoneta si scontra con il muro e si ferma. C'è una situazione biologica, è un mito, è un termine scientifico, il muro del maratoneta, il maratoneta che inizia dai 30 ai 30 anni, e qualsiasi maratoneta, ha una spiegazione psicologica. Le scatte, altro aspetto tecnico di cui si parla, e in questo momento, nello stile di Coer, che è molto composito, c'è il tecnicismo, e c'è la letteratura, che convivono continuamente, che salta dall'uno all'altro registro, il tecnicismo è un po' modo di stemperare la carica, empatica, che tende a mettere nella sua letteratura. E quindi, per esempio, nell'episodio delle scarpe, che Marco si ha raccontato in dettagli, è un tentativo di smidizzare, appunto, anche nel romanzo, il fatto della rivalza, a quanto pare ci sono giornalisti che hanno detto che aveva deciso di correre senza scarpe, per dimostrare addirittura che un africano poteva correre senza scarpe. Lì, Coer scarica il mito dalla sua enfasi. Perché è così che scrive? Perché per lui è un sanpietrino, non è un blocchetto di pietra, ma è 64 centimetri quadri di leucite, cito testualmente. È tutto un susseguirsi di tecnicismi, la tenosinuita del tibiale, le bolle di cavitazione, c'è tutta una parte in cui spiega delle bolle di cavitazione che produce un gambero che si chiama canocchia pavone con le chiele. È una specie di gambero pugile che sbatte le chiele, produce delle bolle di cavitazione e riesce a rompere la conchiglia dei crostacei. E ne parla! E si vede che gli piace parlarne. E da parte c'è questa fascinazione per il tecnico e dall'altra c'è il meccanismo inverso. Perché, per esempio, nelle parole del padre di Abebe, di cui si parla anche, che da giovane era stato a Berniok, ovvero un combattente resistente etiope contro le truppe d'occupazione italiana. E allora, nelle parole del padre, che porta negli occhi i segni delle cicatrici lasciate dall'iprite, i gas mostard dall'iprite diventano le lacrime di Tio, per esempio. E qui c'è il meccanismo inverso. E qui torniamo alla storia. L'iprite, che è uno dei degli elementi più memorabili, tristemente memorabili, della campagna italiana in Etiopia, che dopo la Prima Guerra Mondiale, sappiamo tutti, le devastazioni del gas mostarda, era una cosa che tutti temevano e che tutti i popoli europei avevano deciso di non usare più, tanto che, persino nella Seconda Guerra Mondiale, dove si è fatto di tutto, il gas mostarda non l'hanno usato. Ebbene, tra una guerra e l'altra, il gas mostarda, l'iprite, è stato usato in varie occasioni contro i popoli che venivano considerati non civilizzati, no? E questa cosa la ripercorre anche il libro. Stupisce che un personaggio come Churchill, nel 1919, si fosse dichiarato nettamente favorevole all'uso di gas velenosi contro tribù non civilizzate, testualmente. E il gas e l'iprite fu utilizzata nel sud della penisola arabica dagli inglesi per soffocare la rivolta del Rif in Marocco dagli spagnoli e fu utilizzata in Etiopia dagli italiani, in particolare nella battaglia dell'Ambaradam a cui è dedicata la via che conosciamo tutti e vicino la quale passò proprio la Maratona di Roma. E che tra l'altro forse vale la pena di ricordare che ci devono fare la stazione della metro C e la stazione doveva chiamarsi Ambaradam però come risultato di un'azione di alcuni attivisti sarà chiamata Giorgio Marincola in memoria di un partigiano eritreo di origine eritrea un partigiano italiano di origine eritrea. E così è fatta un po' la Maratona di Abebe di Tila nel libro che attraversano la geografia romana che Queer conosce bene perché il libro è stato concepito a Roma quando Queer stava a Villa Medici a fare una residenza. si vede che la conosce bene passa per le borgate ci sono le baracchie di una Roma ricostruita da boom economico ci sono le pubblicità dove dovevano stare c'è Abebe che si stupisce di fronte ai muri delle ville della Via Appia che sono fatte con i pezzi delle statue antiche e vede lui come ne aveva detto l'allenatore e c'è l'obelisco di Axum di cui ci parlavi prima che è considerato il punto di svolta della Maratona e l'obelisco di Axum è il simbolo dell'Etiopia schiacciata dall'italiano che avevano portato nel 1937 per testimoniare appunto per celebrare i 15 anni della marcia su Roma e da dove viene il titolo del libro vincere a Roma dal fatto che il riscatto da questa distruzione dell'ultimo impero africano Alessio Lassie che in questo momento nel 1960 è il capo politico dell'Etiopia ce l'aveva ben chiaro perché non sappiamo quanto ce l'avesse chiaro Abebe ma sicuramente ce l'aveva ben chiaro a Alessio Lassie che aveva detto vincere a Roma sarebbe come vincere mille volte per questo passando per la Roma che è costellata di ricordi del passato antico ma anche del colonialismo per Abebe vincere è come vincere mille volte emerge quindi la figura di Alessio Lassie che è un altro personaggio mitico e quindi il mito che torna Alessio Lassie è il Rastafari quello da cui viene il Rastafarianesimo quello per cui quello che bene erano quelli con i Ted per capirci se uno è un mito per Bob Marley vuol dire che deve essere proprio un mito grandissimo è il leone di Giuda ed è l'uomo che nel 36 pronunciò di fronte alla società delle nazioni il discorso in cui a seguito dell'invasione italiana in Etiopia metteva in guardia le nazioni europee contro quello che stava per succedere e dice se voi vi arrendete di fronte a dato di fatto attenzione perché succederà a voi quello che è successo a noi che è proprio come è andata Alessio Lassie che è l'uomo che ha ripreso l'Ediopia nel 41 ed è proprio quello che durante la ricostruzione ha fatto gli accordi politici con la Svezia che hanno fatto sì in un modo un po' strano perché Lassie non si voleva legare a nessuna delle potenze che si stavano spartendo il mondo si legò alla Svezia e arrivarono 700 immigrati svedesi invitati dal governo etico grazie a un prestito svedese che pagava gli stipendi insomma arrivarono in 700 a cominciare a guidare la ricostruzione in Etiopia Onni Niskanen era uno di questi fece amicizia con Lassie che capiva il valore simbolico dello sport e diventò l'allenatore di Bichila e diventò quello che stabilì questa famosa strategia del restare indietro appunto come ci spiegavi prima quella che nel libro se ne parla tantissimo viene chiamata la strategia del correre nascosto è una cosa che si vede bene nelle immagini di Marcellini di cui ci dicevi all'inizio c'è un corridore fra gli altri alla fine c'è Bichila da solo in mezzo alle luci di questo scenario straordinario dell'arco di Costantino l'autore lo chiama un perlum quello di Marcellini perché l'ambientazione così tanto romana ne fa un peplum è un'ambientazione eroica questo film si chiama La Grande Olimpiade no? in uno stile un po' forse antiquato quello di Marcellini un po' robuante ci sono gli eroi dell'arrivo e ci sono alla partenza quelli che sono soltanto gregari che stanno tutti quanti insieme semplicemente un uomo scalzo e il commentatore del film dice ma chissà chissà questo poi con un artificio perché ovviamente quando l'hanno montato lo sapevano chi era però dice che sarà questo addirittura non ha i soldi per comprensere le scarpe e torniamo al Bichila di prima di prima della Maratona il Bichila etiope ci sono tre passaggi che mi piacerebbe citare nel libro ce n'è uno in cui viene fuori proprio il Bichila capostipide dei corridori africani semplici della dieta semplice di cui ci dicevi e a un certo punto dice bere e ballare come un americano l'Etiopia paga ciascun atleta sei dollari al giorno per vivere a Roma nel villaggio olimpico bastano e avanzano altra immagine quella della madre mi ricorda una cosa io faccio scalata mi è capitato di parlare con un amico eritreo guarda caso e dicevo ma viene a scalare con me lui mi ha guardato ha detto ma come scalare per arrampichi ma si arrampicano le scimmie e aveva ragione è giustissimo perché sono cose che sono sono arrivate dopo nella storia dell'umanità la passione per le sfide diciamo e così la stessa saggezza di quel mio amico alla madre di Bichila che mi dice ma come scusa tu c'hai il lavoro hai lo stipendio io ti ho trovato la moglie e dice sei venuto al mondo come un uomo perché devi scappare come un animale terza immagine la famiglia di Bichila il giorno del primo dell'anno si riunisce un cazzo che sta fuori dalla casa un terrazzino di legno sono seduti per terra stanno mangiando c'è la radio accesa e la radio è accesa Arnold McMillan sta facendo un discorso il celebre discorso sull'indipendenza del Sudafrica che parlava del wind of change del vento del cambiamento e ci sono tutti i personaggi i familiari di Abebe che si commuovono di fronte che sciorinano una lista dei paesi che hanno appena ottenuto l'indipendenza è una scena bellissima molto commovente viene da chiedersi sarà vero che i familiari di Abebe potevano ascoltare alla radio il discorso in inglese di McMillan e commuoversene probabilmente no però viene fuori il gusto per la storia di quest'autore che è un gusto per la storia che forza l'intimità del personaggio di Abebe la forza è il punto che ti viene una domanda ti chiedi a che diritto ha che francese la Francia è una potenza storicamente coloniale e sicuramente ha ampie responsabilità nel mondo successivo alla decolonizzazione sullo stato dell'Africa allora quest'autore in un certo senso si intromette sta cercando di raccontare un affrancamento che non è il suo e lui se ne accorge e si vede perché la piccola voce quella di cui ci parlava Marco è quella che è un po' il punto di vista dell'autore è quella che continuamente inietta l'enfasi è come un tafano che segue Bichila che gli parla e gli fa le citazioni bibliche e gli parla di della infiammazione dei ginocchi di qualsiasi cosa e soprattutto continuamente classici greci gli spiega cosa sta avvenendo allora questa voce che è quella dell'autore è che a un certo punto Bichila si spazientisce anche a sentire dice stai zitto ma che sei l'allenatore mio questa voce è la voce dell'autore che risponde a un'esigenza di riparazione perché Marco Duce ha parlato dei giornalisti degli errori che hanno fatto su Bichila tutto il libro è in contrapunto con la narrazione che fa della maratona Lois Van Lee che è un giornalista francese io l'ho scoperto in questa occasione da quanto pare sì tutto in corsivo è il commento che fece lui per Radio Hunter è un commento grossolano lui non sa che Bichila sbaglia il nome duemila volte quando c'è la scena dell'arrivo il direttore lui si immagina che i fotografi abbiano spinto Bichila poi dice no ma quello che ha vinto è errati errati è forte perché prima stavano nella nazionale francese allora secondo me Coer di questa grossolanità della voce che è stata la voce dell'Europa che parlava dell'Africa vuole riparare e la riparazione si condensa nell'immagine finale del libro che è l'immagine notturna come ci dicevi la maratona è partita di giorno ma è arrivata di sera l'ultimo tratto si è svolto sull'Abbia alla luce delle torce avevano organizzato la cosa in modo che c'erano dei militari che tenevano una torcia alzata e c'era il militare successivo che l'accendeva quando riusciva a vedere il corridore che stava arrivando allora lui si immagina la scena vista dall'alto ci sono le torce che si accendono una dopo l'altra una dopo l'altra ed è come un serpente luminoso che si snoda nell'appia buia di cui i corridori e così arriva Vichila all'arco di Costantino fa via di San Gregorio che è illuminata raggiunge l'arco di Costantino è la prima medaglia d'oro del continente africano e ce lo restituisce come si vede nel documentario dei Marcellini che arriva e comincia a fare stretching quando tutti quanti i giornalisti lo circondano i fotografi che partono i flash e tutto quanto lui si ferma Santella e fa due passi di stretching e questa è l'ultima immagine con cui si chiude il libro e basta se avete delle domande mi viene in mente quando ho introdotto anche un altro personaggio che è questo libro è sempre in tutto quanto presente che è l'imperatore e anche allora un altro dettaglio un'altra cosa che fa capire come ci sia una discrasia tra senso storico di riscatto che effettivamente il senatore può portare la gara e che Bichilla in realtà ha fatto il paradonello che è un racconto quando è il momento dei due maratonelli e come vi dicevo prima per una questione tecnica sono fisicamente io le chiamo una suggestione se voi vedete il maratoneta in particolare il maratoneta etiope o Kenyota adesso soprattutto veramente sembra un essere di un altro pianeta è quasi da pensare eti questo ridotto asciutto ma oltre ogni e l'imperatore che evidentemente non era corrente di questi aspetti qua dice a un suo non ascoltato ma lo sentono dire a un suo dignitario e dice ma come fanno questi due a vincere o a provare a vincere che non ce l'hanno la forza per 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 provare a vincere questa gara e l'altra cosa che invece mi è venuta in mente ascoltando il discorso che facevi tu ma l'avevamo anche introdotto cioè come per l'Africa veramente è un riscatto e come ancora adesso purtroppo questo riscatto non è completato e per come per loro la corsa è qualcosa che va di là di una scelta sportiva appunto lo citavo prima che se l'asse che è stato c'è qualcuno lo ritiene anche superiore a a vitila ma probabilmente lo è perché è stato eh detentore del primato mondiale sulla maratona per sei anni di seguito insomma uno dei più grandi maratonetti di sempre il quale racconta a chi gli chiede perché lui nella postura della corsa se lo vedete tiene sempre un braccio in una posizione un po' anomala e lui spiega il perché lui dice ma perché io perché per tutta la mia infanzia andavo a scuola di corsa perché tutti qui si spostavano per andare a fare a prendere l'acqua per andare a scuola per chiamare il medico perché la madre di Gepp Selassie muore nell'orto e lui viene mandato il bambino di corsa a chiamare il medico che sta a sette chilometri di distanza non arriva in tempo e loro andavano a scuola correndo ma ancora adesso cioè parliamo di Gepp Selassie che non è stiamo parlando degli anni 40-50 Gepp Selassie è un atleta che si è ritornato da poco quindi vent'anni fa era così trent'anni fa era così e lui andava a scuola e correva portando i libri sotto il braccio questa cosa gli ha lasciato lo racconta lui questa postura innaturale perché lui automaticamente va a proporre a questo braccio che ancora ha la memoria muscolare di quella questo per dire che la storia di Bitila è una storia che ancora non è finita la storia dei runner africani non è finita continuano a strabiliarci vedo un record di oggi che è kenyota non è sceso sotto le due ore nonostante questa cosa straordinaria che va quasi al di là delle possibilità umane perché per avere un termine di riferimento correre la maratona sotto le due ore significa correre per 42 chilometri e 195 metri è la misura della maratona andando ad un'andatura costante vicino ai 23 chilometri 23 chilometri all'ora allora fatevi l'idea 23 chilometri all'ora è un motorismo praticamente per 42 chilometri si tengono questa questa velocità dall'inizio alla fine anzi alla fine adesso rispetto ai tempi di Pichila Pichila era un tempo nel quale si cercava di andare più veloci all'inizio per mettere il fieno in cascina come si dice così dopo se avevi la crisi ora dico qual è la crisi del muro avevi abbastanza accumulato tempo per poter rallentare ormai da qualche anno i maratoneti africani partono ad una velocità tengono quella media appunto di 23 chilometri all'ora per 42 chilometri e anzi nei chilometri finali se ne hanno ancora accelerano e vanno a la questione del muro diceva una questione fisiologica perché si chiama questo muro perché sostanzialmente tra il trentesimo e il trentacinquesimo chilometro tra maratona i muscoli che hanno esaurito le scorte di poce e anche di grassi per rallentarsi e sanno mangiare se stessi e cosa succede succede arriva di graffi e poi ferma allora la capacità dei maratoneti è quella di allenare i muscoli a consumare nell'arco di 42 chilometri circa 95 metri in ugual misura grassi e zuccheri in modo che quando si arriva verso la fine tu hai ancora delle hai una dote ancora di grassi non di zuccheri perché comunque li bruci prima ma li bruci più lentamente e ti evitano questa sorta di cannibalismo del muscolo che ancora ha del carburante quindi adesso sostanzialmente usando questo termine per i maratoneti africani adesso il muro sostanzialmente non è più meglio esiste ma hanno sviluppato tali capacità tecniche di allenamento e di alimentazione che quel muro lo aggirano cioè anzi addirittura dopo il muro vanno in progressione se hanno preparato la maratona se voi vedete le immagini di Kiptoge che arriva il giorno in cui fa questa maratona va sotto i due ore e non è omologata perché non è stata fatta in una maratona internazionale l'ha fatta con delle scarpe particolari su un tracciato a piena non omologato avendo poi le lepri in gergo sono i corritori che tirano la velocità e non è possibile però se voi lo vedete arrivare lui arriva con un corriso straordinario accelera saluta e quindi non è assolutamente nella crisi del muro anzi è un po' di chila questo lo dimostra con quella cosa che fa quando arriva a Roma che fa i stagini di stretching e voi vedete le immagini dell'arrivo a Tokyo quattro anni dopo lui addirittura non solo fa stretching continua a corritiare sul campo dello stadio di Tokyo dimostrando così che appunto lui il muro lo ha superato un'ultima cosa parlavi del film dell'Olimpide di Roma a Tokyo c'è un altro aneddoto che è legato a Pichila a Tokyo anche il film perché ogni Olimpia diviene fatto da un regista affermato un film che narra tutta questa cosa e quindi il film del regista giapponese che tra l'altro è uno dei maestri del cinema giapponese fa questo film che ha come filo conduttore il sole insomma in Giappone ha un senso e quindi quando racconta Pichila a parte che fa queste riprese di Pichila durante la maratona che sono meravigliose parte dalle gambe e poi le fa vedere questa danza perché sostanzialmente Pichila non corre danza c'ha questa leggerezza con le scarpe perché lì corre con le scarpe poi c'è una una parte dove si vede Pichila di spalle che sta arrivando verso lo stadio sullo sfondo era la giornata nuvola sul grigio dello stadio era colorissimo molto grigio la maglia verde scura eccetera Pichila di spalle che arriva verso lo stadio e si vede la piaccola che rappresenta questo tema ricorrente del sole della nuova e si è scoperto pochi anni fa che quella parte quel preme è finito cioè lui fa la parte della maratona e lo riprende bene poi siccome vuole creare il regista queste immagini che però non aveva allora chiama Pichila si accorda con Pichila il giorno dopo lo riporta in quel tratto dove c'è quell'inquadratura gli fa indossare la divisa eccetera lo bagna in modo che sembri usato e fa questa ripresa che lui aveva realizzato nel film che in realtà non aveva fatto durante la vera maratona ma perché non l'aveva fatto perché in quella maratona c'era un maratoneta giapponese che era secondo e quindi l'attenzione era tutta concentrata su questo secondo maratona qui chiudo scusate perché la passione poi le storie tirano fuori altre storie questa è una storia troppo drammatica come poi tra l'altro è anche drammatica il finale di vita di Pichila che nel libro non c'è ma Pichila perde l'uso delle gambe in un incidente automobilistico con la Volkswagen che gli regala l'imperatore perché ha vinto una medaglia lui ha un incidente e perde l'uso delle gambe quindi trascorre la sua parte finale della vita su una sedia a rotelle ma talmente forza passione per lo sport lui diventa nelle Paralimpiadi fa il lancio dell'arco e altre attività Paralimpiadi nelle Paralimpiadi dove si impone anche dicevo l'altra storia che incurcia con Pichila quindi questo giapponese arriva entra nello stadio come secondo viene però superato da un belga di Luba scusatemi lui è secondo durante la gara poi è terzo poi perde la medaglia di Bronto che sarebbe stata la prima medaglia vinta dal Giappone nell'Atletica e questo questo corridore giapponese che aveva sostanzialmente vissuto questa cosa con un tradimento del suo paese si si autoconvince che le successive olimpiadi di quelle di città del Messico dovranno essere il momento del suo riscatto del riscatto suo di un intero popolo del Giappone comincia a preparare queste olimpiadi poi infortuna varie volte quando si rende conto che non potrà competere a città del Messico non potrà farcela nel ritiro della nazionale giapponese su città con una coltello si uccide lasciando un biglietto dove scrive io non posso più fuori e non è vero che non poteva più riscattare il Giappone perché aveva capito che per gli intercuni poi il tempo passano sarebbe stato in grado di vincere una medaglia a città del Messico e lì appunto il regista giapponese dispugge quella immagine perché tutte le libri sono questo giapponese che sta per arrivare secondo poi addirittura terzo poi invece non ce la fa e quindi gli mancava quel pezzo il regista lo recupera il giorno dopo se volete fare domande noi siamo qua tra l'altro se qualcuno fosse interessato abbiamo le copie del libro che stanno qua grazie